Ciao a tutti, oggi un breve video perché vi voglio parlare di un argomento molto particolare. Molto spesso chi si approccia alla scrittura, chi inizia a scrivere, chi aspira a diventare uno scrittore, utilizza uno stratagemma abbastanza ovvio, ma forse non così tanto per tutti, che è quello di utilizzare uno specchio, cioè un'immagine riflessa, per descrivere un personaggio. Improvvisamente questo personaggio, magari in bagno, magari di fronte a una finestra che riflette, si trova a descriversi osservando tutti i suoi particolari, per esempio descrive gli occhi, la forma del viso, l'abbigliamento e così via. Questo è un espediente che sembra molto smart, molto furbo agli aspiranti scrittori, ma in realtà non lo è. E vi spiego con due parole perché non lo è. Perché nessuno di noi, quando si guarda allo specchio, pensa Ah, ho degli occhi azzurri molto grandi, ho la bocca un po' larga, ho il naso strano con sta gobba. Come mai ho gli occhiali neri oggi? Nessuno fa così, perché esattamente sappiamo tutti noi come siamo fatti, nessuno si analizza per descriversi. Possiamo guardare se abbiamo delle rughe in più, se abbiamo le occhiaia, se abbiamo lavato bene il viso, non lo so, cose di questo tipo, ma non descriverci davanti a uno specchio. Così come il ridicolo che diciamo, oggi mi sono messo una camicia azzurra. È chiaro che se l'hai scelta, sai chi ha una camicia azzurra, non c'è bisogno di dirtelo davanti allo specchio. Eppure questo espediente è sfruttatissimo, utilizzatissimo da tutti i neofiti, da tutti quelli che iniziano a scrivere o vogliono scrivere un romanzo. Ecco, questo in generale viene definito come un tabù. Uno scrittore non dovrebbe utilizzare lo specchio per descrivere i suoi personaggi. Questo è un dato assodato, prendetelo per quello che vi sto dicendo. Da poco vi ho parlato della leggenda del Santo Bevitore, vi ho detto tante cose probabilmente, ma una in particolare mi faceva piacere sottolinearla e tornarci in base proprio a questo argomento di cui vi parlo oggi. Ed è questa. C'è un momento in cui Andreas Kartak, il protagonista del libro, si siede nel ristorante e osserva la sua immagine allo specchio. C'è uno specchio di fronte a lui e lui si osserva. Però guardate qual è la differenza tra utilizzare lo specchio come lo utilizza Josef Roth e come lo potrebbe utilizzare un qualunque aspirante scrittore. Va premesso questo che Josef Roth per descrivere il suo personaggio utilizza con molta parsimonia e dilazionando gli elementi lungo le pagine che precedono questo episodio che vi leggerò, dei piccoli particolari che ci dicono come era la giocca di Andreas, come era il suo viso, che si lavava, che non si lavava, che aveva le mani callose dal lavoratore e così via. Quindi seminano una serie di particolari che ci aiutano a immaginarci questo personaggio senza che ci sia una descrizione didascalica. Adesso vi leggo il passo. Josef Roth, la leggenda del santo bevitore. Andò quindi tutto fiero, nonostante il suo vestito cencioso, in un bistro per bene. Si sedette a un tavolo, lui che da tanto tempo era abituato solo a stare in piedi al banco, anzi a starsi appoggiato. Si sedette dunque e siccome davanti al suo posto c'era uno specchio, non poteva evitare di osservare il suo viso e fu come fare di nuovo conoscenza con se stesso. La cosa lo spaventò e subito comprese perché negli ultimi anni aveva tanto temuto gli specchi. Non era bene vedere coi propri occhi la propria rovina e finché non ci si doveva guardare era come se non si avesse affatto un viso o se avesse ancora quello antico, che risaliva al tempo prima della rovina. Ma ora si spaventò, come si è detto, soprattutto perché confrontava la sua fisionomia con quella dei signori benestanti seduti vicino a lui. Con questo vi voglio semplicemente dire che non importa che esistano dei tabù, non importa che ci siano delle cose che si fanno o non si fanno. Questo non ha nessuna rilevanza. Qua Joseph Roth utilizza uno specchio per dirci in negativo, cioè nel intogliere, che cosa non è più Andrea Skartak, non è più una persona come quelle che gli stanno intorno. E basta questo per farci capire che lui ha un aspetto devastato da barbone, da ubriacone appunto, in confronto alle persone che gli stanno intorno. E questo lo capisce guardandosi semplicemente allo specchio. Ecco, quello che vi voglio dire oggi, il messaggio con cui vi lascio è che non esistono i tabù, non esistono cose che non si possono scrivere o che non si devono scrivere. Esiste solo una regola, scrivere bene. Alla prossima.